Si è svolto presso Confindustria Mestre il secondo appuntamento intorno alle novità in tema di dispositivi antinfortunistica organizzato da Sicura, azienda leader nel settore, in collaborazione con Univet e Moldex. Il secondo evento che Sicura organizza qui in Confindustria è proprio per presentare la tecnologia nel mondo dei DPI. Siamo orgogliosi in questa occasione di presentare il prodotto Univet e i prodotti Moldex, due leader europei ma non solo perché vendono e distribuiscono a livello mondiale tutto quello che sono i loro prodotti e la cosa interessante è che stiamo parlando di due leader di prodotti estremamente tecnici con soluzioni innovative e all'avanguardia. La sicurezza del volto del lavoratore è stato al centro dell'incontro e del workshop in cui sono stati presentati i dispositivi per la protezione oculare Univet. Noi proteggiamo l'occhio, cerchiamo di andare a proteggere l'occhio a 360 gradi, cioè noi dobbiamo proteggere l'occhio anche in tutte quelle applicazioni che abbiamo definito di nicchia. Quello che è il settore farmaceutico con le sterilizzabili, il settore del vetro che qui a Venezia è sicuramente importante, sono piccole nicchie ma importanti per noi, differenziano il prodotto, differenziano l'azienda. Siamo specialisti. Il rapporto con Sicura, come abbiamo visto, abbiamo festeggiato entrambi l'anno scorso i 15 anni, abbiamo iniziato a lavorare insieme. Sono 15 anni che collaboriamo sul territorio italiano, siamo sempre cresciuti, c'è un ottimo rapporto con Roberto e quindi questo è sicuramente un qualcosa che ci vede proiettati per molto bene nel futuro. È stato poi il momento dei prodotti dell'azienda americana Moldex, appositamente studiati per la protezione delle vie respiratorie e dell'udito. Moldex è un'azienda nata negli Stati Uniti negli anni Ottanta e per quello che riguarda l'Europa oggi è presente in Germania con una struttura proprio per questo mercato. Siamo un'azienda che, come poche altre oggi, si concentra su quello che sono determinate linee di prodotto DPI, dispositivo protezione individuale, e per noi vuol dire vie respiratorie e udito. Quindi in questo ambito da sempre abbiamo cercato di portare innovazione e tenendo conto di due ben precisi aspetti che sono il comfort e soprattutto l'efficacia del DPI. Abbiamo trovato in sicura una struttura che la pensa come noi, quindi questo evento è una dimostrazione, cercare di sensibilizzare le persone che devono proteggersi e portare sul campo qualcosa di innovativo. Un'occasione importante per tutti i numerosi clienti in sala di sensibilizzazione e aggiornamento intorno alle problematiche e alle soluzioni sulla sicurezza del lavoro. Un'occasione importante per tutti i numerosi clienti in sala di sensibilizzazione e aggiornamento intorno alle problematiche e alle soluzioni sulla sicurezza del lavoro.